Domani, giovedì 30 gennaio, saranno a Chioggia tre commissari dell'UNESCO, lo svizzero Bernard Furrer, l'ungherese Reika Viragos e il tedesco Tobias Salate, per un sopralluogo nell'ambito del progetto di protezione internazionale Venezia e la sua laguna. Ieri nel capoluogo, a perorare la causa della laguna Sud, c'è il vice sindaco e sessore all'ambiente del comune di Chioggia, Marco Veronese, che sta provando a far entrare il forte di San Felice nel patrimonio dell'UNESCO. Sarebbe giusto riconoscere, commenta il vice sindaco, l'opera di riqualificazione messa in moto in questi anni, con il tavolo tecnico, ai 7 milioni di contributo quale opera di compensazione del MOSE verso la fruizione pubblica degli spazi storici. Ai commissari ricorderò che la laguna, di cui Chioggia fa parte per il 33%, va considerata e tutelata in ogni suo aspetto. Furrer, Viragos e Salate sono al corrente di quanto si sta facendo per alleviare la pressione turistica su Venezia, compreso il tema delle grandi navi da crociera, e hanno dato la propria parola a ogni comune della gronda lagunare per approfondire aspetti specifici dei singoli territori. Le loro relazioni saranno portate alla 43esima sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale, che si terrà a fine giugno a Fuzù, in Cina. Colpo di scena ieri pomeriggio durante la seduta della Quinta Commissione Consigliare Bilancio, presieduta da Beniamino Boscolo, è richiesta dai consiglieri di opposizione Marco Dolfin e Marcellina Segantin. Il tema, quanto mai attuale, era il parcheggio scambiatore di imminente realizzazione sul lato ovest dell'isola dell'Unione. Ma nuovi rilievi topografici, differenti rispetto al primo progetto, recano un computo metrico errato e pertanto il ricavo di posti auto rispetto alle previsioni diventerebbe sensibilmente inferiore. La scoperta è stata verificata dall'architetto Marcellina Segantin, consigliera di Chioggia Viva, che nel sito della stazione appaltante in seno della città metropolitana di Venezia ha riscontrato le quattro versioni del progetto. La prima impresa vincitrice dell'appalto, la Firmat di Roma, aveva rinunciato all'opera proprio per via dell'errore nelle dimensioni della struttura. Anche il consigliere di maggioranza Daniele Padoan aveva espresso dubbi relativi al numero di posti macchine in più che verrebbero ottenuti rispetto all'attuale parcheggio raso e ieri ha chiesto l'umile l'avvocato Mazzaro, amministratore della società partecipata SST, presente in aula. Anche a quest'ultimo non quadravano i 74 presunti esuberi. Tanto che l'ingegner Lucio Napetti del settore lavori pubblici ha menzionato una relazione la quale dà conto di soli 40 aumenti. Anche l'assassora Alessandra Penzo ha chiesto venisse verbalizzato che i dati non collimano con quelli in suo possesso, pari al raddoppio o quasi dei posti autoesistenti. Se i risultati delle verifiche avviate daranno numeri completamente diversi, ribadisce Penzo, ci vedremo costretti a riconsiderare tutto il progetto, anche bloccando la stipula del contratto previsto per il fine settimana. Lo stesso gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle si è reso disponibile a votare, assieme alle opposizioni, un ordine del giorno per avviare la sospensione del progetto. Alla fine, chiuso al Presidente della Commissione, Beniamino Boscolo, abbiamo scoperto che con 1.400.000 euro si doveva costruire un parcheggio a due piani per avere solo 30 o 34 posti in più, perdendo i 120 posti a raso esistenti e una decina d'altri a ridosso, imbarazzo nell'amministrazione. Oggi, dalle ore 17, nell'aula magna dell'Università Popolare alla Scuola Ex Principe Amedeo, con accesso da Calle Manfredi in Chioggia, avrà luogo la presentazione del volume Il naufragio del Benintendi, 1 aprile 1928, scritto da Ruggero Donaggio, collaboratore del settimanale diocesano Nuova Scintilla. I temi della pubblicazione saranno illustrati assieme a Don Vincenzo Tosello, direttore dello stesso periodico e parroco nelle chiese del centro storico. Nella rievocazione, frutto di ricerche d'archivio, testimonianze orali tramandate e note dalla stampa di allora, Donaggio riporta alla memoria collettiva un fatto di oltre 90 anni fa, che all'epoca colpì duramente la popolazione chioggiotta, già provata da continui naufragi in tempesta. Il Benintendi era un bragozzo legato a doppio filo e alla famiglia Spagno, detti Buora, che persero la vita nella figura del capobarco Eugenio e del figlio Corrado, assieme ad altri quattro marinai. Dalle pagine di Donaggio riaffiora un ritratto sentito della povera chioggia del tempo, che sempre tuttavia prodursi nella solidarietà alle famiglie superstiti. Anche quest'anno il Comune di Chioggia conferma le 18 autorizzazioni a commercio su area demaniale marittime per la stagione estiva a Sottomarina e Isola Verde. Di queste, 12 riguardano la somministrazione di generi alimentari e solo 6 quelle riservate al settore non alimentare. Il bando, approvato dalla Giunta, prevede l'invio della domanda al Servizio Commercio del Comune fra il 1 febbraio e 15 marzo, mentre nulla a osta con validità annuale saranno rilasciati entro il 30 aprile, previo pagamento dei diritti di istruttoria, pari a 225 euro. I richiedenti entreranno in una graduatoria che terrà conto dell'anzianità di esercizio, appartenenza a consorti di tutela alimentare, con vendita di prodotti a chilometro zero o comunque fabbricati in Italia, disponibilità di magazzini per il ricovero della merce, accorgimenti ambientali per gli imballaggi e veicoli di trasporto. Vigerà inoltre il divieto di cessione dell'autorizzazione e l'impossibilità di riservare un solo tratto di arenile preferenziale per ogni singolo operatore concessionario. Il giro di vita era iniziato nel 2019, quando l'Aggiunta ha chiamato in causa anche la revoca di 4 autorizzazioni su 18 per gravi violazioni avvenute nell'estate precedente. Allora c'era stata anche una caduta sistematica della domanda per i titoli ascrivibili al settore alimentare, quando dei 14 assegnabili di sole o 9 erano stati rilasciati. Trova quindi difficile comprensione il fatto che siano rimaste invariate le maglie per i concessionali alimentari. Non sono pochi quanti ritengono che l'intero disposto del bando potrebbe portare all'ulteriore esplosione del fenomeno del commercio irregolare, trattandosi per lo più di capi di abbigliamento giocato gli accessori, impossibilitati a concorrere per vie regolari sopra i 6 che verranno autorizzati, specie nel permanere delle carenze di organico per quanto riguarda le polizie locali. Grazie per la visione!